Che voi ci crediate o no, per me sarà molto difficile fare questo video. Non sarà difficile ritornare su YouTube, perché quello basta scendere la fotocamera e parlare di quello che meglio so fare. Sarà proprio difficile fare questo video, perché per la prima volta voi non state parlando con Black Geek, ma state parlando con Andrea. E veramente mi sta quasi venendo una sorta di attacco di timidezza, perché io parlo davanti a una fotocamera da 7-8 anni. Ma l'ho sempre fatto recitando un personaggio, non l'ho mai fatto in modo così spontaneo. Faccio una serie di doverose premesse, perché so già che da questo video ci saranno molte incomprensioni. Non è un video di addio, non è un video di cambiamenti radicali, non è un video in cui vi dico che mi sono rotto le scatole di fare YouTube. YouTube non cambierà assolutamente niente, perché non è cambiato niente. Se non per un dettaglio, che oltre a tutto quello che c'è sempre stato, quindi il mio canale, i miei video sulla tecnologia e il rapporto che comunque ho con voi, si aggiungerà, o meno proverò ad aggiungere qualcos'altro. È una sorta di evoluzione o di maturazione, visto che comunque questo canale l'ho aperto da quando avevo 11 anni, adesso ne ho 19, stiamo per entrare nell'anno dei miei 20 anni, quindi è normale che le cose prima o poi sarebbero dovute cambiare. Né in meglio né in peggio, evolversi. E visto che non è la prima volta che ogni tanto prendo, me la sparisco e poi ritorno dopo una, due, tre settimane, questa volta ho preferito aspettare di avere dei video pre-registrati prima di annunciare il mio ritorno. Io questo video avrei voluto farlo prima delle vacanze di Natale, ma ho preferito prendermi un attimo di pausa per ragionare, per capire che svolta io voglio dare alla mia vita e al mio lavoro. Mettermi dei video da parte, che saranno video normalissimi, del genere che avete sempre visto sul mio canale, dove si parlerà di tecnologia, dove si parlerà di iPhone, c'è un anno nuovo che sta per arrivare. Ho tantissimi progetti, tra cui uno che farò con Blink direttamente a gennaio, se magari un'azienda si muove a spedermi un pacco. Ho un altro progetto che farò con il mio amico Matteo che riguarda quella iMac ali dietro. Ho tantissime cose di cui parlarvi. E quindi già da domani usciranno dei video che sono già pronti. Però voglio che vi concentrate molto di più sul video di oggi, perché ci sono delle cose che dovete sapere. La tecnologia era, è e sarà sempre una mia enorme passione. L'unica cosa che è cambiata rispetto a quando ero un ragazzino, 14, 15, 16enne, è che ai tempi era la mia unica passione. Poi ovviamente crescendo una persona cerca ad ambire sempre a conoscere di più. Io sono una persona che per quanto sdegni il sistema scolastico italiano, invece cerca molto di acculturarsi, di formarsi una propria cultura in molti ambiti per i c***i propri. Perché sotto certi punti di vista è meglio così. E quindi nel corso del tempo le mie passioni sono aumentate. Una cosa però non è mai cambiata. Io sono sempre stato una persona molto comunicativa. Io è come se avessi bisogno di parlare, di dire la mia. Però visto che mi dà fastidio fare quello che prende e parla, soprattutto sul web, perché non so se ci avete mai fatto caso, sul web i video vlog, i video dove si dice la propria opinione, sì, magari sono belli, magari le persone intelligenti le possono fare, perché magari uno ti guarda 20 minuti di vlog di una persona che ti dice cosa pensa su un qualcosa e pensa, oh però questo qua c'ha una bella idea. Bene, e poi? Cioè è comunque una gara a chi p***a più lontano. E col passare del tempo ho notato che il mio personaggio ha iniziato a starmi un po' stretto. In che senso? Vi racconto un paio di aneddoti molto simpatici. Sono aneddoti della mia vita privata, quindi non scenderò troppo nei dettagli, però alcune cose ve le posso dire. Per esempio, circa un mesetto fa ero in birreria con un mio amico e a un certo punto lo raggiunge un suo gruppo di amici, una sua compagnia, che aveva conosciuto l'università. Per me è molto importante frequentare le cerchie universitarie, perché avendo fatto la scelta di non iscrivermi all'università, cerco di comunque interessarmi a conoscere quell'ambiente la sera, in birreria, fuori, in giro con gli amici, perché io sono sempre stato una persona a cui piace espandere le proprie conoscenze. E mi capita ovviamente sempre più spesso che le persone mi abbiano già visto prima su YouTube, che è una cosa a cui ho fatto l'abitudine, la so gestire. Per alcune persone questo può essere pesante, per me in realtà è quasi un vantaggio, perché non ho mai avuto problemi con questo. Il problema qual è? Che le persone che prima mi conoscono su internet e poi mi conoscono nella vita reale, molte per lo più, commettono l'errore di pensare che la mia vita sia quello che vedono sul web, ovvero che la mia vita consista nel tenere un iPhone in mano e nel parlare di tecnologia. Che non è vero. E a me questa cosa dà fastidio, dà fastidio perché quando ho incontrato questa compagnia, appunto la prima cosa che hanno detto è ma tu sei quello che ho già visto su YouTube, ti seguo e fin qui va benissimo. Però poi hanno iniziato a parlare di iPhone. Cioè in birreria la sera, che si potrebbe parlare di mille cose, mi parlavano solo di iPhone. Oh ma quindi cosa ne pensi di? Cosa ne pensi del nuovo iPhone? Cosa ne pensi di quest'Android? E non è un... Cioè a me piace parlare di queste cose, ma non 24 ore su 24. Vi faccio un altro esempio. Da pochissimo, due settimane, si è interrotta, non era una relazione, era una conoscenza intima con una ragazza. Mi stavo sentendo con una ragazza, diciamo in modo particolarmente affettivo. Poi vabbè, le cose sono finite per altri motivi, non vi preoccupate, sto bene. Però la cosa curiosa è che è stata la prima ragazza dopo tante, tante, tante altre ragazze che mi ha conosciuto prima di persona e poi ha scoperto che aveva un canale YouTube. Per moltissimi altri casi è stato il contrario. E ricordo che quando lei aveva scoperto che io avevo questo canale YouTube e mi ha detto ah allora vado a guardare un po' di tuoi video, io le ho detto no, non lo fare perché in quel modo conosci una persona diversa, conosci un personaggio che è diverso da quello che sono io. Poi per fortuna lei si è rivelata essere una persona molto matura che mi ha dato una mano a capire alcune cose perché ovviamente i video li ha visti lo stesso perché hai mille video di una persona con cui comunque ti stai sentendo su YouTube e ne vai a guardare qualcuno. E ricordo che dopo un po' di giorni di persona mi prese da parte e mi disse guarda che io ho capito che quello comunque è diventato il tuo lavoro cioè che tu non sei black geek e che tu hai molto più da offrire rispetto che un black geek nella vita reale. E vi dirò se faccio questo video dove finalmente vi sottopongo questo problema se ho trovato la forza di farlo è anche merito suo perché le persone che più mi stanno a cuore che più mi stanno vicino sanno che è un problema che io inizio a sentire da quest'estate e che non ho mai avuto il coraggio di tirare fuori è anche merito di questa persona se finalmente sto trovando le forze di parlarvene. E quindi ho fatto una scelta dal 2020 proseguirà la mia attività di YouTube come black geek ripeto come avete sempre visto non cambierà assolutamente niente ma inizierò un'altra attività sempre lato personaggio pubblico inizierò aprirò un nuovo canale da zero dove farò video esclusivamente per passione dove comunicherò altri aspetti della mia vita dove farò video di quello che mi pare solo per il gusto di comunicare qualcosa a voi perché io sento di essere una persona estremamente creativa forse l'unica cosa che veramente mi riesce da dio nella mia vita è comunicare dei messaggi agli altri far riflettere le altre persone influenzare le altre persone in senso positivo e non voglio più che questa cosa sia limitata sia circoscritta alla tecnologia ora fate molto attenzione a quello che vi sto per dire questo non significa che io nel corso degli anni ho perso l'interesse per la tecnologia e che adesso sia una cosa che sto cercando di portare avanti per inerzia io adoro fare video sugli iPhone adoro parlare di queste cose e ringrazio ogni giorno di avere un lavoro che è anche la mia passione il problema è che se tu la passione la trasformi in un lavoro inevitabilmente cambi il rapporto che hai con questa tua passione perché io abito da solo ho delle bollette da pagare ho un affitto da pagare la passione per definizione è una cosa che fai quando ti senti di fare il lavoro è una cosa che fai punto e basta quindi se una passione a un certo punto diventa forzata diventa una cosa che devi praticare ogni giorno che ti piaccia o no è ovvio che ci siano dei periodi in cui non ne hai voglia e quindi sento il bisogno di condividere con voi sia il mio lavoro ma sia la mia passione che cambia cambia nel corso degli anni magari oggi vi parlerò di una cosa magari tra due anni vi parlerò di una cosa completamente diversa quindi riassumendo che cosa dovete fare che informazioni dovete trarre da questo video che già da domani ritorneranno i video di Black Geek i video a cui siete tanto appassionati ma che se oltre che essere affezionati a me per le pillole di tecnologia che vi do vi siete affezionati anche per la persona che c'è dietro e volete scoprire qualcosa di più volete sentire quello che ho da dire vi dico in primis seguitemi su Instagram perché lì già da un po' di tempo ho fatto questo cambiamento su Instagram ormai io sono sono quello che sono nella vita reale ma in particolare da oggi ho aperto un nuovo canale che trovate in descrizione non mi interessa quanti iscritti fa non mi interessa quanti soldi fa non è quello che sto cercando se volete darmi fiducia iscrivetevi perché probabilmente tutto comincerà con una live e poi inizierò a mettere video anche lì senza frequenza quando mi capita quello che voglio ci potrebbero essere video fatti col cellulare così come cortometraggi fatti in un anno di produzione metterò letteralmente tutto ciò che mi passa per la testa e penso che ora che finalmente vi ho detto questa cosa il mio lavoro sarà anche molto più sereno perché finalmente ho diviso la mia vita privata dalle mie passioni dal mio lavoro che erano tre cose che ultimamente stavano andando troppo una a pestare i piedi all'altra ah ovviamente importantissimo anche blackjack comunque si evolverà nel 2020 su blackjack io voglio fare qualcosa che comunque vada oltre i video probabilmente sarà finalmente l'anno buono per il merchandising però anche lì ho in mente dei progetti particolari non voglio fare solo le magliette del canale voglio fare un qualcosa di più arriveranno probabilmente dei giveaway arriveranno dei nuovi video torneranno i video sugli hackintosh torneranno i video sulle pc build torneranno i video rumor tra poco pubblicherò la serie sulla mia nuova casa perché la sto finalmente finendo poi a gennaio che sarò un pochino più stabile economicamente farò anche la sala il salotto con la tv il salotto da gaming arriveranno una serie di video dove probabilmente voi potrete decidere una parte dell'arretamento di casa mia quindi fidatevi blackjack di cose da fare per il 2020 ne ha però anche Andrea ne ha e potrebbero piacervi anche quelle di modo che quando qualcuno potrà dirmi ah ma fai video su youtube io potrei dire sì questa è la tecnologia questo invece sono io scegli tu chi dei due vuoi guardare o anche entrambi perché no e voi non immaginate veramente la gioia che ho finalmente nel dirvelo presto avrete nuove informazioni su questo progetto e questo era solamente un vlog sfogo dove dovevo dirvi alcune cose e che dire meglio tardi che mai noi ci rivediamo domani con un nuovo video su blackjack e dal nuovo anno inizia anche questa nuova avventura detto questo ragazzi se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice seguitemi su tutti i miei social network che come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione cliccando qui là ti potete raggiungere altri miei due video invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale se lo fate siete dei grandi io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video vi iscrivete al mio canale